Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video, oggi siamo in una gara di scavo con Samu Oggi abbiamo già un kit base per iniziare, abbiamo 12 minuti per iniziare a scavare Allora, il diamante vale 5 punti, il resto tutto uno Ok, da dove partiamo? Allora, no, puoi scegliere un punto a caso, abbiamo 12 minuti a partire da ora Ok, che ne dici se facciamo che incominciamo da una caverna? Beh, io sono partito già sotto i piedi Ok, allora mi stavamo sotto i piedi Tanto abbiamo le coordinate in modo tale da poter capire qual è il posto giusto per minare Però io non ho ancora trovato una caverna, questa cosa mi triggera tanto Invece ho trovato già dei minerali Oh, copper, 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 benissimo, bene, bene, un punto Eh, il copper ti vale, perché se anche vale uno, però ne trovi in quantità, è quello Sì Io non sto ancora trovando nulla di caverne, proprio zero Sono già a livello... Ipsi, carbone, carbone! Come stai messo tu a minerali? Eh vabbè, ho già trovato la lava, ma che cos'è? Anch'io, anch'io Sì, però... Come si sale da qua? A minerali, ti dico, sono messo bene Ferro! Ho trovato una minuscola cavernina con acqua e lava Lapislazuli! Eh vabbè, signori Quanto vengono i lapis? Sì, sì, sì Perché non sono così rari Giustamente, i lapis non sono esagerati Caverna! Mamma mia Come sei messo a minerali tu? Messo bene Messo molto bene Ti dico una cosa, vale anche l'ossidiana Come vale anche l'ossidiana? Sono morto Perché ti ha visto il nome? Sono morto, devo tornare nel mio buco, però signori c'è un problema, ci devo ritornare in creativa Perché non ho messo che c'è la tip inventory, quindi... Sei un genio Ehm... Facciamo che... Ehm... Andà, vado un attimo in creativa Prendo le cose, insomma, capite? Sperate, mi servono le torce Raga, mi devo rincentrare tutto Allora, prendiamo le cose Oh, raga, però sto... Quanto vale l'ossidiana? L'aveva fatto, però... Eh? Quanto vale l'ossidiana? Sempre uno, però vale Eh, però, signori, dai, avevo... Ho perso tutto nella lava, io Posso chiederti una cosa? Eh? Puoi mettere Night Vision? Infinita tutte e due Puoi fermarti? Per favore Sì, mi sono fermato Guarda... Giustamente Allora Un attimo che mi incianto il piccone Eh, però, signori Se questo non va Ok E qui posso buttare tutto lì Adesso mi prendo il secchio d'acqua Scusate, raga, ma se sono stupido Che non ho messo a Keep Inventory Ehm... Aspetta che vado un attimo A ritrovare il mio buco Che non so dove Minimamente dove L'ho fatto su... Eccolo qua No, non è questo il mio buco Vabbè Capirete È questo Ritorno un attimo Da dove sono Dove sono morto Ok Sono morto qua io Però non c'è il mio buco Perché è bruciato In realtà sono andato In un governo a caso Ma va bene Allora Adesso Do la night vision a tutti E vado in... E scusate, raga, per l'imprevisto Flash effect Faccio la Night vision 9, 9, 9, 9 Zero Se me la puoi mettere Ah, intanto a me Mi fai un favore L'ho messo a tutti No, perché stavo diventando cieco Ventory True E scusate, raga, se non ho preparato queste cose per i video Però veramente Game mode Zero Perfetto Ripartiamo Eh, però... Oh, sono direttamente davanti all'Arezzo Non me ne ero accorto Ok, perfetto, perfetto Vai Andiamo un po' di... Come sei messo a minerali? Eh, male L'ho persi Ah, vuoi che... Vuoi che... Ti faccio passare Cinco minuti Che ne recuperi un pochettino? Aggiungiamo due minuti al timer, ok? Va bene Ok, veramente... Sono più bravo di me Ho ritrovato il ferro e la redstone Uh, redstone Vediamo se c'è qualcos'altro qui in giro C'è pieno di ossidiana Ma io non mi voglio soffermare troppo sull'ossidiana Vediamo se c'è qualcos'altro in giro Mamma mia, quanto è grande sta caverna Non ci capisco Eh, la tua sarà enorme La mia era piccolissima Copper e carbone ovunque Ok, questo va bene Vabbè, io sto trovando solo carbone, redstone, copero e ferro Non altro Allora, come sei messo a redstone? A redstone? Sì Va, già ce ti dico Uno stacca e tre Io sono a 53, mannaggia A carbone? Eh, però a quanto che ne hai persa Sì, vabbè A parte quella che ho persa Ho lasciato del carbone, sì, eccolo Mannaggia Io sono a 39 di carbone Tu come sei messo a carbone invece? Aia, so che c'è un buco brutto Ti vedo un nome? Ma sei tipo lontanissimo Una caverna piccolina Con un... Ma un botto di... Di carbone Cioè cos'è sta cosa? Ma quanto ce n'è? Samu, siamo vicini Samu, no, non vale picchiarsi Sì È la mia caverna Sì, ma non vale Sì, che vale Ti va bene così? No Io cambio il caverna Guarda, vado dietro giù di qua Vediamo cosa c'è Eh, vabbè, sono caduto in una... Eh, vabbè, ma che cos'è? Carbone ovunque Ok, 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 ok Guarda, quanto ferro Ferro, tanto ferro Tanto ferro Ok Mi sono allontanato un pochettino E sta discendendo Un carbone? Mamma mia, come si è messo a tuo carbone? Io... Eh, molto, molto bene Guarda, un attimo Non lo voglio neanche dire Io sono a due stacche due Due stacche due? Sì Io sono a tre stacche cinque Quanto vale l'oro? Domanda Perché non c'ho sentito Vale tutto uno Ah, ok Tutto, tutto Comunque ho trovato una caverna enorme A parte i diamanti che valgono cinque Ho trovato una caverna Una piscinetta Che penso sia quella dove spawnano i axolotl Però ritorno Un attimo che ridò la night vision a tutti Beh, a me non serve Il mio piccone comunque non è che stia così tanto bene Sarà anche in nederite ma sto scavando come un fosse nato Veramente Eh sì, che sbaglio a scrivere Ok, mi sono acceso le luci Ok, perfetto Mamma mia quanto ferro che c'è qua Come si è messo tu a ferro? Abbastanza bene Ti ricordo che abbiamo fortuna Quindi possiamo trovare Io faccio quasi uno stack di ferro Quasi uno stack Quasi uno stack? Io ho uno stack 16 Troppi mob Troppi, troppi Devo mangiare, devo mangiare, devo mangiare Ah, devo mangiare Ok, fatto, mangiato, mangiato Di sopra c'è un'altra caverna Fra quanto carbone Io sono quasi a tre stack di carbone Tu come sei messo? Dai, di qualcosa Eh, adesso lo scoprirai tra poco Lo scoprirai Ok, non è il caso di andare lì Ma domanda molto retorica Ma se uno dei due trova una mineshaft? Valgono anche i materiali dentro il mineshaft Ok Sono sempre materiali No, nel senso proprio Valgono ma valgono nel senso normalmente Sì Dipende ovviamente Se trovi i diamanti nella mineshaft Sono cinque punti Vabbè, normali Insomma Sì Però se questi mob La finissero Di darmi fastidio I ragni no però Sono questi che Ok, il ragno Da decisamente fastidio Ok, basta Ok, io sono messo tipo Strabene a ferro E robe così Però non sono a profondità Giusta per trovare i diamanti Quindi dovrei scegliere Sì Io me la provo a giocare un po' tutta sul copper Perché veramente ne ho tanto No Uno, due, tre stack No, forse due No, no, no Cerca di non morire Mannaggia Eh, perché sta Ti spiego Era in una caverna Ma era piena di roba Solo che era una caverna Sott'acqua E allora non riuscivo a fare nulla Ah, ok Boh, vabbè Mi scavo qui Ok, allora Vediamo se riesco a buttarmi giù Comunque ragazzi Se vi piacciono le gare di scavo Ve ne faccio altre Sul canale Anche perché io mi sto sinceramente Aia, aia, ecco Mi serve Night Vision, Luca Quando mi dicevano mai schiavarti sotto i piedi Capisco, eh Night Vision E solari da tutti Sì Dovresti mettere un command block Sì Non adesso perché non c'è tanta voglia di farlo No, no Intendo Magari per un prossimo video Dai, mannaggia C'è uno scheletto che mi spara Non riesco a scrivere niente Intanto metto in Paceful Sì, cosa migliore Perché sennò ci danno fastidie Mob Oh Sì, però se moriamo Però non è una bella cosa Ma è impossibile morire Facciamo quattro minuti in più Perché c'è Fri a farci tutto il tempo qua Ok Se magari mi dai Night Vision Grazie Mi sta diventando cieco Vedo Vedo Il numero Dai, voglio saperlo Un attimo che ne sto rompendo dell'altro Quindi Appena finisco di rompere questo carbone Ok A carbone sono messo Uno, due, tre, quattro Quattro stack e diciotto Si è messo abbastanza malino rispetto a me Perché tu quanto sei? Io ho cinque stack e trentadue A ferro come sei? A ferro? Sì Aspetta, fammi vedere Io non ho trovato Uno stack e diciotto Io ho uno stack E non so se ne ho dell'altro Sono sott'acqua Non so dove Ma sono sott'acqua Io sto usando una tecnica Proprio da maestri Andare a livello 11 Poi andare in diagonale Semplice, semplice Vabbè, è quello che stavo facendo anch'io Però devo arrivare a livello 11 Da mezz'ora, spero Ma però, signori Ok, copper, 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 copper Ficca, possiamo Ricopriamo, ricopriamo, ricopriamo Vuoi sapere quanto copper ho? No, troppo, 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 troppo Troppo, veramente tanto Mannaggia che all'inizio ero messo meglio Ti posso capire Comunque sinceramente Dopo un po' ti comincia a fare male il dito a scavare Così No, a me no Ok, sono a livello 5 Sono sceso decisamente troppo Io invece sto a livello 11 Adesso sono esattamente a livello 11 Oh, oro, 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 oro Tanto oro Comunque, la cosa bella è che abbiamo detto Se troviamo dei diamanti Può essere buona la cosa, no? Sì Questa di noi è trovata ancora i diamanti L'apis, buona il lapis Buonissimo Dai, prendimi qua Non abbiamo tanto tempo È quasi finito il timer Mannaggia Oh, altro copper, 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 copper Tanto copper Mamma mia Prego, un diamante mi può farla fare la rimonta? Diamanti! Diamanti! No Diamanti! Diamanti! Sì, vabbè Tappa la fonte d'acqua Tappa la fonte d'acqua Quanti sono? Se tappa l'acqua riesco a prenderli Sì Tappata l'acqua Eh, signori Cinque punti No, non me li fa prendere C'è un inventario pieno Sì, li ho presi Ben dodici diamanti Mamma mia Eh, vabbè Sono cinque punti Ma quanti? Beh, dai Almeno ho una piccola rimonta Ma non è detto Magari tu hai più di altro Che ne sai? Io oro, per esempio, sono messo male Tanto male Mamma mia Però lì c'è dell'oro Sopra i diamanti c'era dell'oro sul soffitto Quindi E là in fondo ce n'è dell'oro Eh Quanto fortunato è questa caverna Samu Abbiamo un minuto Mi sto cercando di sperare qua L'ultimo minuto L'ultimo minuto Immensa Dai Per favore Un diamante Anche solo uno E potrei vincerla così Lì non ci sono diamanti No, no Qui prendo l'oro Prendo l'oro Perché mi può essere Utilissima Oro, oro, oro Tu come sei messo oro? Bene Ora però non posso parlare Perché Siamo agli sgoccioli E in effetti Io sto Mi sto limitando anche a prendere Soltanto la La Fine Tutti sulle mani Ok No fra Mi son fermato davanti a degli altri diamanti Non ci voglio credere Ci godo Ci godo Ma non ci voglio credere Ci godo male Allora Ehm Buttati nella lava Così responi direttamente su Se ce l'hai vicino In caso mi butto io E poi ti tolgo Però volevo controllare Se qua c'avevo dei diamanti C'è vicino Ok Se voglio vedere la mia stupidità Aspetta 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 un attimo No No Non vale Perché se scavi altri Non te li No Non sto scavando Ok Mi hai fatto perder l'acqua Scegli una cesta Eh vabbè Tanto non ci serve più Scegli una cesta Dove mettere le tue cose La mia Perfetto Metti tutti i tuoi minerali Che hai raccattato Allora Questo 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 Poi diciamo Che metto il carbone Perché ne ho preso Tantano tanti Allora Sì vabbè No Però Partiamo dall'inizio Ok Come sei messo carbone? Allora carbone Sette stack Precisi No Quattro stack e diciotto Un punto per te Sì Ok Non picchiarmi però Allora Come sei messo a ossidiana? No Come sei messo a ossidiana? Ossidiana undici Tre Mannaggia Due punti per Samu E ti ho fermato a prenda L'ho fatto bene Come sei messo a rame? Tre Eh Stacche 52 5 stacche 61 Bagno Sì Ferro Eh Uno stack e 55 Due stack e 12 Sì Due punti per me Mi hai recuperato male Redstone Due 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 a due siamo Due stack e 57 Uno stack Sì Tre a due Tre a due Rimonta Oro Poi Oro 28 di oro 20 Sì Sì Godo malissimo Sì Sono felice Allora Tu quindi sei A cinque punti Quattro Quattro No aspetta Allora Io sono a tre Quattro Io sono andato meglio Nel carbone Nell'ossidiana Nel oro Nella redstone E quindi siamo a quattro punti Sì Quattro pari Allora siamo No Tu sei a Tre Tre Tu sei a tre Diamanti Zero 23 23 E cinque per me Ho vinto Ho vinto io Sì Non abbiamo guardato Quella pizza Eh io non ce l'ho Eh ho vinto io Eh ho vinto io Perché tu ce l'hai? Sì E anche tanto 52 Eh però Allora è un punto per te Tu eri a quattro Sei a cinque Il diamante vale cinque punti Eh tu eri a tre Io vinto io Tre più cinque Ecco ti mollo tutti i miei materiali Scusa li avevo tolti Per tenere il conto No Brutto Maledetto Ti sei rubato i diamanti Ho vinto Non mi interessa Ho vinto Vado a scavare Comunque ragazzi Se volete Vedere altre gare di scavo Nel mio canale Noi ci vediamo nel prossimo video Mettete like a questo video Commentate se volete Vederne altre E ciao 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 Ciao